pesca si stanno tenendo controlli sulla pesca anche italiana da parte della comunità europea controlli giusti e corretti per effettuare i quali è stata messa in campo una nave apposita che in questi ultimi tempi sta battendo la nostra costa e sta sanzionando a raffiche i pescherecci che stanno commettendo infrazioni alle leggi europee non solo a chioggia ma in tutte le coste italiane da nord a sud il problema è che non tutte le direttive europee sono state trasmesse capillarmente alle varie federazioni della pesca qualcosa sembra sia andato smarrito nei meandri normativi c'è quindi confusione e ci sono anche i soliti scarica barile che vedono andare di mezzo sempre l'ultima ruota del carro i pescatori direttive che sono state sembra recepite in modi diversi dalle stesse capitanerie di porto tanto che apparentemente quello che è accettato da una non sembrano sia anche da un'altra e direttive che tra l'altro non prevedono alcuna tolleranza nelle misurazioni i pescatori di fronte a sanzioni importanti che prevedono oltre al sequestro di reti a pescato anche la sottrazione di punti dalla licenza e dal plafond dell'armatore e un procedimento penale non sanno più quali siano le modalità corrette a cui si devono attenere contro questa confusione mancanza di uniformità delle direttive del loro recepimento la marineria di chioggia avrebbe voluto indire uno sciopero ma sia troppo a ridosso dalla conclusione del fermo pesca e aderire per molti non sarebbe sostenibile soprattutto per gli equipaggi non è detto che non si attiveranno altri tipi di protesta se non altro per far sentire le proprie ragioni e scuotere chi dovrebbe ascoltare ci chiediamo se il sindaco di chioggia la città che ha un primato italiano nel mondo della pesca e che riveste anche l'incarico di assessore alla pesca si ha conoscenza di questa problematica e come intende affrontarla sarebbe il colmo che il primo cittadino di chioggia che vuole in tempi record dare il via alla realizzazione di un grande polo ittico tale da diventare un punto di riferimento a livello europeo sia quello che rischia di vedere la marineria di chioggia scomparire come potenza economica nel panorama italiano con una conseguente crisi che investirebbe tra imbarcati e indotto circa un 5 mila persone e siamo nello studio della servizio nord est 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizzi particolari sui super bonus in interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico super bonus esiste ancora fino al 31 12 2024 l'incentivo è stato ridotto al 70 per cento e per maggiori informazioni su super bonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie servizi nord est 2.0 via bembo sottomarina di chioggia venezia siamo con l'assessore alla cultura elena zennaro alla conclusione di questo bellissima di questa bellissima kermess perché è stata una raccolta di eventi importanti sette mari questa conclusione cosa ha portato in tutto sommato a chioggia un evento simile direi che ha portato molto ha portato illustri storici professionisti professori abbiamo parlato di etica di formazione abbiamo fatto cultura in vari ambiti perché non era legata solo al mare o comunque non limitatamente al mare abbiamo lavorato a 360 gradi sulla nostra città in collaborazione con la marina militare italiana grazie al circolo nautico alle celebrazioni per il suo 75esimo anno di costituzione e grazie soprattutto al comandante oscar malesso perché ha saputo veramente coinvolgerci tutti su più livelli avevamo tanti sponsor e abbiamo lavorato veramente con tutta italia anche oggi abbiamo appena visto il sorvolo degli aerei storici aerei che provenivano da Nervesa della battaglia e abbiamo avuto degli speaker di eccezione e abbiamo avuto anche dei nipoti diciamo famosi medaglia d'oro al valore militare per ranza e abbiamo avuto qua il nipote che ci ha veramente emozionato perché la cultura del mare proprio questa è emozione ed è voglia di coinvolgere tutte le generazioni sd auto in forma della novità per il 2023 la revisione dei carrelli in sede si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg 01 e 02 di carrelli per imbarcazioni per moto per auto roulotte trailer per il trasporto cavalli carrelli tenda carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg potete contattare sd auto per qualsiasi informazione o chiarimento siamo con marcello colombo presidente di sav sorveglianza aerea veneta come mai qua in piazza oggi sì buongiorno grazie michela per la per questa intervista oggi siamo qui impegnati insieme a fianco del circolo nautico per la manifestazione conclusiva della dei sette mari oggi sarà una mattinata anche se un po ventosa impegnata per i nostri droni che avranno il compito di monitorare sorvolare e anche vedere di fare qualche ripresa per i tre apparecchi mobili che arriveranno a fare saluto con i fumogeni nella cina alla nostra bella città e le nostre imbarcazioni che faranno con un certo d'acqua il saluto e i ragazzi del circolo nautico che chiuderanno gli allenamenti con un passaggio sulla piazza vivo ecco noi siamo costantemente richiamati per questa attività di suo ruolo e monitoraggio che è anche il cuore e fulcro delle attività della sav sorveglianza aerea veneta voi organizzate anche corsi per il brevetto patentino per la guida dei droni esattamente organi abbiamo un academy credo sia una specialità tipica sola della sav che organizza con una scadenza quasi mensile dei corsi per acquisire tutti i brevetti necessari per essere piloti autorizzati che va dal primo brevetto base a una tre che è un data entry un livell entry per nel mondo dronistico per passare poi alla due è un po più avanzato e all'ultimo specifico per attività specifiche prossimo corso prossimo corso una due dovrebbe essere l'attorno il 20 di novembre che dovremmo chiudere l'annualità accademica 2024 siamo abbiamo appena terminato una una tre o ragazzi di tutta la regione veneto perché ricordiamo che la saga è una letà del regione veneto buongiorno sono roberto piccerato presidente di ioda il tuo consulente assicurativo siamo presenti in mirano chioggia orbassano torino visita il nostro sito www.iodabrock.it dunque non so neanche guardare i giornali ma anche solo guardando i social arrivano a continuazione immagini riprese di disastri in tutta italia c'è l'emilia romagna che è in areta rossa bologna noi siamo in contatto con un avvocato di bologna che ha oltre 70 anni e dice a memoria sua non ha mai visto la città in queste condizioni di allagamento in liguria la liguria è sempre stata una regione rischia comunque è correlata a una parte della via aurelia sia la sardegna sia la la toscana che in calabria e anche sicilia ci sono allarmi sempre per queste queste inondazioni sono sempre più 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 c'è anche un morto morto tra l'altro un ragazzo di 20 anni è stato a rimacchiano il fratello è stata una volta dalle acque e l'anno è morto poveretto tutte situazioni che praticamente non fanno altro che darci una luce veramente diciamo pessimistica di quello che succederà chioggia per fortuna ancora una volta è stata salvata dal mose non mi stancherò mai di ricordare che il mose è stato fortunatamente voluto da silvio brusconi siamo quest'ora saremo fondo anche noi e ricordo e voglio sempre ricordare che quei soggetti a tipo roberto rossi e i suoi compari di merenda erano quelli che invece non lo volevano detto questo qualcuno potrebbe dire ma ma cosa c'entra il mose una cosa un po diversa non è tanto diversa ma ci sono dei paralleli molto molto chiari e cioè per poter e diciamo contrastare tutte queste inondazioni questi questo queste invarenze idraulica questi queste cadute di queste bombe d'acqua bisogna investire e bisogna realizzare opere che almeno mitigano l'impatto di queste acque ecco per fare un progetto ci vogliono anni per trovare i fondi ci sono anni il ministro giorgetti ha detto chiaramente che i vari ministeri dovranno tirare un po i rimi in barca perché non ci sono risorse sufficienti quindi io mi riferisco a la realizzazione del ponte sbarramento sul brenta sul fiume brenta sapete tutti che è fermo da diversi anni perché mancano risorse c'è stato prima bloccato dal buon masiero e quelli delle darsene per motivi assurdi totalmente assurdi sono riusciti comunque a bloccare la la partenza dei lavori quando finalmente si stava per partire e c'è il progetto sono stati fatti bandi ma siccome le materie prime sono aumentate del 30 40 per cento l'azienda che ha vinto l'appalto e se noi mettono altri soldi non può fare i lavori abbiamo visto quindi quanto tempo ci vuole per il colmose siamo andati avanti oltre 30 anni oltre 30 anni dal momento che qualcuno ha detto facciamo sto mose e che siamo arrivati che si sta salvando sono passati oltre 30 anni quindi allora il il ponte la settimana scorsa abbiamo tirato fuori noi il fatto che il il ponte della fossetta quello sulla romea stendiamo un filo pietoso sull'altro ponte della fossetta è fermo d'altro mese non si sa perché o per come al momento non ci sono risposte né l'assessore regionale dolfin è riuscito a saperlo il l'assessore di chioggia angelo mancini da quel che sappiamo non sa niente neanche lui ma è evidente che c'è un problema tecnico c'è un problema tecnico che farà ralentare i lavori quindi vediamo quante difficoltà ci sono vorrei ricordare che anche il ponte sul brand è a rischio perché anche quello dall'ana si è previsto che deve essere buttato giù e rifatto perché ha tutta una serie di problematiche allora alla luce di tutto questo alla luce del cambiamento climatico alla luce del fatto che quest'anno abbiamo avuto anche troppa acqua non è detto che il prossimo anno ci troviamo nella stessa situazione quindi è assolutamente necessario concludere questo benedetto ponte sul fiume brenta ponte sbarramento per il cuneo salino allora siccome l'abbiamo già parlato tantissime volte siccome i vari senatori deputati sindaci che hanno sempre scusato il termine ma è la realtà blatterato della famosa filiera che abbiamo il comune e la regione il governo tutto il centro destra va tutto bene ma da una presa non è così perché mancano risorse c'è tutta italia ha bisogno necessità di investire per mitigare questi 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 fenomeni atmosferici sempre più volenti nel bilancio del comune di chioggia abbiamo decine e decine di bilioni fermi per la legge speciale di Venezia ed è una solidità cioè utilizziamo quei fondi è inutile che stiamo in bilancio e ci troviamo in una situazione sempre peggiore quando anche nel momento se domani mattina dovessero iniziare a fare i lavori per il ponte sul fiume brenta se va tutto bene ci vorranno due anni ma almeno due anni forse che non capite qualcun altro che si sogna di fare proteste e altre cose e quindi sta cosa io l'ho detta a tutti a deputati a senatori a capo partiti assessori a suo tempo gliel'ho detto anche col sindaco che abbiamo che stendiamo un velo piuttosto anche su questo ecco quindi non non si riesce a capire perché ormai all'evidenza che non ci sono soldi il governo non potrà ammettere altri soldi chi dice li metteremo nella prossima finanziaria non li metteranno perché non ci sono quindi alla luce di tutto quello che sta succedendo in italia e nel resto del paese è indispensabile fare questa cosa utilizziamo i soldi della legge speciale venezia del bilancio comunale c'è da fare una modifica la legge c'è da fare qualcosa abbiamo la cosiddetta filiera datevi da fare a f energia ci trovate in viale mediterraneo 135 sottomarina dal lunedì al venerdì 8 30 12 30 14 30 18 30 offriamo il servizio luce gas prezzo fisso variabile telefonia fibra o adsl per famiglie imprese e condomini qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di un euro e tretta per ora Grazie a tutti